Quest'animaletto è un gatto randado. Il suo nome scientifico è Cattus. È un mammifero appartenente all'ordine carnevoli e della famiglia dei Felidi. E appena ho fatto un video prima l'ho cancellato. Gli ho dato anche la buonasera. Gli ho dato la caccia. Ad esempio, se vedessi un topolino di campagna, gli darebbe la caccia. Lo facessi anche se vedrebbe un passerotto. Comunque questo animale appartiene alla specie Felis Catus. Si dice che è una brutta gatta da pelare. Questo animale ha l'orecchio e punta come le volpi.